Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia e con Fantasiastore.it dove se inserirete il codice ARCONT del crogiolo 19 riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo tornati con una nuova puntata di Was. In questa puntata di Was, signori, andremo a scoprire un nuovo mazzo dell'era dell'ascensione, lo unboxeremo e come sempre lo andremo ad analizzare e ne studieremo le sinergie. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e passiamo subito all'unboxing. Allora, siamo pronti con questo nuovo unboxing. Ringraziamo la fumetteria Grande Inverno per averci ospitato. Le copertine sono quelle nere stavolta. Andiamo a vedere cosa ci riserva questo mazzo. Allora, blu. È la prima volta che ho un ARCONT di colore blu, finalmente. Selvaggi Marte Brobnar Tex. Investigatore di schiena celeste. Vediamo qual è la prima casata. Intanto l'ARCONT lo prendiamo. Pettiamo qui. Lo abbustiamo subito. Tex. Pistolero proprio, eh? Allora. Vediamo qual sarà la prima casata. BROBNAR BINGLE BANG BANG. Precombattimento infliggi 5 danni a ogni vicino della creatura contro cui BINGLE BANG BANG combatte. Ottima. È un'ottima creatura questa qui. BRAMMO. Gioco. Infliggi 2 danni a ogni creatura nemica su un fianco. BATTITORE. Gioco combattimento raccolto. Rimetti una creatura gigante amica nella tua mano. È un batterista come me. Un batterista come me. POLVERENTOLA. CLASSICA POLVERENTOLA. DENARO INSANGUINATO. Colloca due ambre nella riserva comune su una creatura nemica. Per capire che cos'era la riserva comune ci ho dovuto impiegare praticamente 16 partite. Poi ho capito che cos'è la riserva comune. BRUCIARE LE SCORTE. Il TORVORSARE possiede più 7 ambre. Ne perde 4. SHAMANA SCINTILLA. Un gioco che infligge 2 danni a una creatura. È un mazzo che ha tante carte nuove che io non ho mai visto. È per questo che le vado a leggere. PICCOLA PESTE. HA ILUSIONE. LE CREATURE DEVONO COMBATTERE QUANDO SONO USATE SE POSSIBILLE. AH. AH. Non controllo avversario o niente male questa. BOMBA STRIDENTE. LA SACRIFICHAMO. IL NOSTRO AVVERSARIO PER 2 AMBRE. FORSIERE DI GUERRA. È la prima volta che vedo un FORSIERE DI GUERRA. FORSIERE AZZIONE. OTTIENI UN'AMBRA PER OGNI CREATURA NEMICA DISTRUTTO E IN COMBATTIMENTO IN QUESTO TURNO. BUONA. OTTIMA. CUORE DI FENICE. QUESTA CREATURA OTTIENE DISTRUTTO. RIMETTI QUESTA CREATURA NELLA MANO DEL SUO PROPRIETARIO. INFLIGGI 3 DANNI A OGNI CREATURA IN GIOCO. ULTIMA CARTA DI CASATA BROBNAR. GIGANTE SCAGLIA ROCCE. BELLISSIMO. L'hanno giocato una volta contro ed è stato davvero dura toglierlo. Durante il tuo turno ogni volta che scarti una carta BROBNAR dalla tua mano puoi infliggere 4 danni a una creatura. È stata dura perché non avevo creature con il quale contrastarlo. Beh, una bella cosa, è una bella cosa a casa da BROBNAR. Sempre un piacere avere un BROBNAR, un mazzo BROBNAR a disposizione. Vediamo qual è la prossima casata. MARZIANI. AGENTE YU MANHO. che fa illusione, raccolto, scegli una creatura non Marte amica e una creatura non Marte nemica. Stordisci le creature scelte. È buono. Nuova anche questa. PROLIFERATORE GLIXL. RACOLTO SE IL PROLIFERATORE GLIXL SI TROVO SU UN FIANCO, ARCHIVIA UNA CARTA MARTE DALLA TOPILA DEGLI SCARTI. BUONA! OTTIMA! PERFETTA! SE XI XLI AGGIUSTA TUTTO A ILUSIONE ogni creatura, ogni altra creatura marziana non c'è più un'armatura. Beh, buono. Ah, non male. PRIMO I MARZIANI. RIPRISTINE USA UNA CREATURA MARTE AMICA. ottimo. VERBE MENTALE. UNA CREATURA CHE credo che ognuno di noi, almeno una volta, ha fronteggiato. cannone madre, classico. squadriglia skybooster, quando raccogliamo ce la rimettiamo in mano. due squadriglia. TRIXL RAGGIO SCUDO. impiegiamo due danni quando la giochiamo a una creatura e la spostiamo. METITOR EXANTICS. che se non si trova vicino ad un altro marte, praticamente è nullo. quando raccogliamo otteniamo, oltre al raccolto, anche un'altra AMBRA. RAGGIO IPNOTICO. ottimo, ottimo. ottiene il controllo di una creatura nemica, praticamente come la carta DIS di cui adesso non mi ricordo il nome. GROMMID. non può giocare creature. BAH! BAH! insomma. lascia il tempo che trova. l'ultima carta di marte, lascia il tempo che trova. beh, insomma. simpatica, ma non eccessivamente aggressiva questa sezione marte. intanto comunque poi, in fase di analisi, la andremo a vedere meglio. ZANNA REALE. in tutti i mazzi della nuova espansione, almeno un ZANNA REALE, incasata SELVAGGI. mi esce sempre. due ZANNE REALI. ottimi. perfette. se ne esce una terza, il primo mazzo, dove mi sono usciti, tre ZANNE REALI. e invece no. guardiano del boschetto. alla fine del tuo turno metti un segnalino più una forza su ogni creatura vicina. ottima. carica della chiave, un classico. NOX. dicevi più tre forza per ogni vicino che possiede. può essere davvero una spina nel fianco. TENTADLIN. è uscito anche nel mazzo precedente, del video precedente. infligge solo due danni quando combatte, e quando combatte andiamo a scartare una carta casuale dagli archivi del nostro avversario. sono DAPPERTUTTO. questa è la prima volta, mi sembra che mi esce la seconda. quando la giochiamo, ci da un'ambra, infliggiamo due danni a ogni creatura nemica su un fianco, e un danno a ogni creatura nemica che non si trovi su un fianco. vabbè. due sono DAPPERTUTTO. wow. davvero, davvero una grande cosa. magari ne esce per tre. BANCO DI NEBBIA. l'altro avversario non può utilizzare le creature per combattere, è un classico. le ultime tre. RAMPICANTI AFFERRANTI. rimetti fino a tre artefatti nella mano dei loro proprietari. IMITAZIONE. secondo mazzo che possiedo, dove esce IMITAZIONE. E come ultima carta di casa selvaggi, VIA DEL PORCOSPINO. questa creatura ottiene PERICOLO 3. mi sembra che sia di una vecchia espansione. bah. e questo è il mazzo, signori. questo è il mazzo. non mi ispira più di tanto, sicuramente non lo porterei in un torneo. sicuramente non lo porterei in un torneo. andiamo in sezione ANALISI per vedere come si comporta. Allora, andiamo a vedere come si presenta questo mazzo in sezione ANALISI. le casate sono, voglio ripeterlo, BROBNAR, MARTE e SELVADGI. la tipologia di carte sono 10 azioni, 3 artefatti, 21 creature, 2 migliorie. quindi ci troviamo al di sotto della media in azione, quasi nella media in artefatto, sopra la media in creature, e sopra la media anche in migliorie. per quanto riguarda invece la rarità delle carte, abbiamo 22 comuni, 3 rare, 11 non comuni e come sempre 0 speciali. quindi, sotto la media in comuni, perfettamente nella media in rare, sopra la media in non comune, perfettamente nella media anche in speciale. ora andiamo a vedere l'EMBER BONUS, 6, molto poco. è un mazzo che genera davvero poca ambra stampata, quindi, non è uno dei migliori mazzi che abbia mai sbustato, ecco. per quanto riguarda invece il controllo del campo, potrebbe essere soddisfacente, anche se si trova perfettamente nella media, avendo un 3,95 di forza media, quindi non è che abbiamo tantissime creature forti, diciamo che spicchiamo in forza 3, in forza 4 abbiamo 5 creature, dopodiché abbiamo un 5 forza, 2,6 forza, un forza 9, un forza 10, comunque il forza 10 è, se non mi sbaglio, adesso lo andiamo a vedere, dove si trova, dove si trova, dove si trova, eccolo, il GROMMID, che una volta entrato in gioco, praticamente ci blocca il gioco, a meno che non muoia, quindi, eh, insomma, è situazionale come sempre, bisogna saperlo giocare al momento giusto, invece in armatura abbiamo, un'armatura media di 0,31, con, la bellezza di, due creature con un'armatura, e una creatura con due armature, ci troviamo al di sopra della media, allora, andiamo a vedere più nel dettaglio, come si comporta questo mazzo, a livello di gioco, in sezione rimozione creatura, abbiamo, quattro creature, che infliggono danno, che sono, sciamana scintilla, gigante scagliarocce, cannone madre, e pixel raggio scudo, poi abbiamo, un controllare le creature, con raggio ipnotico, e poi sei carte, che infliggono danno, che sono, bingle bang bang, brammo, cuore di fenice, il verme mentale, e i due sono dappertutto, buono, abbiamo anche una carta, in rallentare, insomma, questo, diciamo che è un mazzo, che va molto sul controllo, cerca almeno, di andarci, con i sono dappertutto, che fanno, praticamente, danno, ad area, il verme mentale, che costringe la creatura, che attacchiamo, a fare danni, alle creature vicine, il cuore di fenice, che è, perfetto, come rimozione di massa, ma, purtroppo, fa danno, anche alle nostre creature, quindi, in caso, è da utilizzare, soltanto come, ultima spiaggia, quando abbiamo, una sola creatura, che vediamo, che non ce la fa, praticamente, ad andare avanti, il brammo, che è, buono, perché, se ha due creature, fastidiose sul fianco, potrebbe darci una mano, e il bingle bang bang, che è perfetto, soprattutto, è utilizzato, contro creature, con illusione, il raggio ipnotico, praticamente, ci dà il controllo, di una creatura, e, con queste quattro carte, allora, con questa carta, qui, che è il cannone madre, noi riusciamo a fare, massimo, sei danni, a una creatura, se noi abbiamo, una mano, full marte, possiamo giocare marte, e sparare sei danni, soltanto ad una creatura, non possiamo però, suddividere il danno, quindi, questo è un one shot, a una creatura, secca, così, beh, magari può essere utilizzato, anche, per la rimozione, di creature fastidiose, che hanno, di solito, poca vita, gigante scaglierocce, non è male, soprattutto, se vogliamo, iniziare a scartare, carte, e la sciamana scintilla, beh, la sciamana scintilla, in più di due danni, è una creatura, praticamente, lo fa gratis, quindi, perfetto, appena entrata, fa due danni, questo gigante qui, non è male, come già ho detto, in unboxing, è molto fastidioso, soprattutto, se il nostro avversario, è abituato, a fare, carneficina, in mezzo, al campo di battaglia, fastidioso, molto fastidioso, gigante scaglierocce, va bene, passiamo alla, seconda sezione, come rimozione artefatto, purtroppo, abbiamo soltanto, trampicanti afferranti, e basta, non abbiamo, nessun'altra carta, all'interno, di questa sezione, soltanto una, per i modificatori, invece, abbiamo tre carte, che è, XX, lì, aggiusta tutto, il guardiano del boschetto, e il nox, che vanno, praticamente, a modificare, l'armatura, delle creature, delle creature, Marte in gioco, il guardiano del boschetto, che dà più uno, ogni suo vicino, alla fine del turno, e il nox, che prende più tre, per ogni suo vicino, quindi, non male, per fare danno, insomma, il guardiano del boschetto, sicuramente, è la carta, insieme a nox, che può darmi più soddisfazione, giocati insieme, questi due, possono creare, non pochi problemi, andiamo a vedere, in controllo amber, in generazione amber, abbiamo quattro carte, che sono, polverentola, che praticamente, è un forziere di battaglio, forziere di guerra, adesso non mi ricordo, francamente, qual è la carta, poi la vado a ricercare, la metto qui vicino, da qualche parte, depotenziato, quindi, se una creatura nemica, è stata distrutta, in questo turno, ottengo uno, ogni volta che andiamo, a raccogliere, il denaro insanguinato, buono, se soprattutto, sappiamo come far fuori, la creatura, al quale abbiamo collocato, le due, ambre, ecco, appunto, come dicevo, senza che ve la metto, la carta, forziere di guerra, ottengo un'ambra, per ogni creatura nemica, distrutta, in combattimento, in questo turno, non mi sono, praticamente, ricordato per niente, di averlo in questo mazzo, è il mio editore, Exantix, che mentre possiede, un vicino non marte, non può essere, praticamente, utilizzato, però, quando va di raccolto, ci dà due ambre, quindi, ottimo, invece, per quanto riguarda, il controllo ember avversaria, abbiamo, tre carte, in sezione perdi, ovvero, bruciare le scorte, che è ottimo, bomba stridente, e il grommid, che, deve essere, giocato in maniera, molto decisiva, cioè, deve attaccare ogni turno, la prima volta che è stordito, praticamente, ci hanno secato le gambe, è un rischio, il grommid è veramente un rischio, vabbè, vediamo, dai, in zona efficienza, abbiamo una carta in archiviare, con il proliferatore Glixl, in controllo del turno dell'avversario, abbiamo, tre carte, ovvero, piccola peste, che è ottima, un tentadlin, purtroppo, infligge soltanto due danni, quando combatte, e un banco di nebbia, poi, in forgiatura chiave, abbiamo, carica della chiave, che è ormai un classico, all'interno della casata selvaggi, e per quanto riguarda il controllo del proprio turno, abbiamo, cinque carte, che sono, rispettivamente, battitore, prima i marziani, la squadriglia skybooster, due squadriglia skybooster, è un'imitazione, sicuramente, sì, è un mazzo control, a tutti gli effetti, questo qui, sicuramente, è un mazzo control, a tutti gli effetti, ha tantissime carte, che controllano, sia il nostro turno, che il turno del nostro avversario, quindi, sì, senza ombra di dubbio, è un mazzo controllo, mal riuscito, per quanto mi riguarda, non lo so, non lo so, dovrei giocarlo un po' di più, perché dopo, che ho fatto il video dell'unboxing, sono uscito subito, a giocarlo, ecco, perché non mi ricordavo, il forseire di guerra, perché praticamente, non mi è mai uscito, mentre giocavo, ne ho fatto, mi sembra, un 5-6 di partite, ma non ho capito bene, come funziona ancora, devo comunque giocarlo, allora, andando a vedere, l'elenco delle carte, in maniera molto più ampia, vediamo, che in casata Marte, c'è, un agente humano, un cannone madre, un grommid, un xxli, aggiusta tutto, un meritore xantix, un prima i marziani, un proliferatore glixl, un raggio ipnotico, due squadriglia skybooster, un tixl raggio scudo, e per finire, un verme mentale, mentre, in casata selvaggi, partiamo con, un banco di nebbia, una carica della chiave, guardiano del boschetto, un'imitazione, un nox, un rampicanti afferranti, due sono dappertutto, un tentadlin, un via del porcospino, e due zanna reale, concludendo, con casata Brobnar, che ci presenta, un battitore, un bingle bang bang, una bomba stridente, un brammo, un bruciare le scorte, un cuore di fenice, un denaro insanguinato, un forziere di guerra, un gigante scagliarocce, una piccola peste, una polverentola, e per concludere, la lista, la carrellata delle carte, di questo mazzo, una sciamana scintilla, sicuramente, un mazzo controllo, sicuramente un mazzo controllo, poi, magari, anzi, molto sicuramente, non sono capace io, a utilizzare mazzi controllo, quindi devo un attimo, impratichirmi anche, nell'utilizzo di questa tipologia, di deck, sicuramente, va bene, dai, andiamo a vedere, se riesco a trovare, qualche sinergia, in sezione sinergie, il cannone madre, può infliggere, da 2 a 8 danni, dopo che avremo raccolto, con le due squadriglia, sky booster, in questo modo, avremo ottenuto 2 ambre, ed inflitto danni, ad una creatura sul terreno, se possiamo raccogliere, con il nostro, Mietitore Xantix, riceveremo 2 ambre, più 2 ambre, se subito dopo, la ripristiniamo, e la riusiamo, con prima i marziani, per un ammontare, di 4 ambre, con un grommid in campo, ed un prima i marziani in mano, potremo combattere, con grommid, per distruggere, una creatura nemica, e far perdere, al nostro avversario, un ambre, giocando al turno successivo, prima i marziani, potremo ripristinare, grommid, e combattere nuovamente, con esso, per distruggere, una seconda creatura nemica, e liberarci la giocata, se il grommid muore, se non dovesse morire, e il nostro avversario, perderebbe una seconda ambra, bomba stridente, può essere utilizzata, per negare la forgia, al nostro avversario, se usata al momento giusto, di solito, viene utilizzata, se il nostro avversario, ha ambre, pari a 6 o 7, non prima, anche perché, avendo omni, potete sacrificarla, quando volete, per massimizzare, l'effetto, di bingle bang bang, utilizzatelo, contro creature, che hanno illusione, in questo modo, avrete inflitto, comunque 5 danni, ai vicini, della creatura attaccata, senza subire danni, con la combinazione, bramo più battitore, potremo infliggere, non più 2, ma ben 4 danni, ad ogni creatura nemica, su un fianco, se avremo una mano, piena di brobnar, e il forziere di guerra, in gioco, con il gigante scagliarocce, potremmo scartare, tutte le carte brobnar, che vogliamo, per infliggere 4 danni, ad una creatura scelta, per ogni carta scartata, se avremo distrutto, qualche creatura nemica, con il forziere, potremo ottenere, un ammontare di ambre, pari al numero, di creature nemiche distrutte, equipaggiando, cuore di fenice, ad una creatura, qualsiasi brobnar, pronta a combattere, e preferibilmente, danneggiata, potremo infliggere, danni da combattimento, più 3 danni da miglioria, se la vostra creatura muore, così facendo, potrete farvi tornare, in mano, la creatura distrutta, che sarà pronta, per essere rigiocata, azionando poi, il forziere di guerra, potrete ottenere ambre, a seconda delle creature nemiche, morte, dopo questa combinazione di carte, signori, come sempre, vi ringrazio, per avermi fatto compagnia, in questa seconda puntata, di Waz, noi ci vediamo, nel prossimo video, ciao!